Benvenuti in Dubois et Fils. L'avventura di Dubois et Fils inizia nel 1785 quando Jules Dubois, animato dalla sua profonda passione per l'orologeria, decide di dare vita al suo atelier. Dubois et Fils è diventata nel corso dei secoli un autentico simbolo di eleganza svizzera. Ogni orologio è concepito per incarnare lo stile raffinato e la classe intrinseca alla tradizione orologera svizzera. Dubois et Fils offre una gamma diversificata di modelli di orologi, ciascuno con caratteristiche uniche e design distintivi. La collezione di Dubois et Fils spazia da orologi classici adatti a un'estetica tradizionale e raffinata, a modelli più moderni con design contemporanei e innovativi. Questa diversità consente alla Maison di attrarre una vasta gamma di appassionati di orologi con gusti diversi. L'artigianato e l'attenzione ai dettagli sono caratteristiche distintive degli orologi Dubois et Fils. I quadranti possono presentare finiture elaborate, marcature sofisticate e indici ben lavorati, mostrando la maestria artigianale della manifattura. Alcuni modelli possono offrire funzionalità speciali, come il cronografo, la data, la fase lunare o altre complicazioni orologere. In conclusione, Dubois et Fils non è solo un produttore di orologi, è un custode della storia orologera svizzera. Ogni suo orologio è un capitolo scritto con cura nella grande narrazione dell'arte dell'orologeria. Una narrazione che continua a evolversi senza mai dimenticare le radici salde che la legano al suo glorioso passato.